E gliene sono profondamente grata perché la Camera dei Deputati doveva festeggiare la musica, doveva farlo anche perché in questa legislatura la musica è entrata qui dentro a pieno titolo. Lo facciamo nelle domeniche di Montecitorio a Porta Aperte, lei non è mai venuto, magari sarà bene che si faccia vedere ogni tanto, quindi domeniche in cui noi apriamo il palazzo, tutti quelli che vogliono entrare possono farlo, si visita il palazzo e poi c'è un evento culturale e spesso facciamo musica.